Che cosa può dare New York a Castiglione Fiorentino con questa esperienza e perché no anche viceversa? Non lo so da questo confronto chi ci guadagna chi ci perde. Sicuramente noi con una punta di presunzione abbiamo qualcosa da dare. Una città internazionale di quel calibro avrà in serbo tante iniziative che lavorano proprio anche nella direzione dell'abbattimento di barriere. Abbattere le barriere architettoniche, mentali e con questa iniziativa anche geografiche rendendo l'arte accessibile a tutti nei modi più disparati. Di questo dibatteranno esperti, amministratori e operatori del welfare nelle tre giornate ospitate dalla Pinacoteca di Castiglione Fiorentino dal titolo Il Sistema Museale Castiglionese e il Metropolitan di New York, esempi di accessibilità a confronto. Il MET da oltre 30 anni propone progetti inclusivi per tutte le disabilità e questo ha fatto sì che oggi sia un museo all'avanguardia nell'annullare le barriere fisiche ma soprattutto culturali. È molto importante parlare di accessibilità nei musei per persone con disabilità e collaborare con tutte le istituzioni perché anche al Metropolitan possiamo imparare qualcosa dalle altre esperienze nel mondo. Dall'altra parte del mondo la strada intrapresa dal sistema museale castiglionese con la collaborazione della cooperativa COINEE è un esempio da valorizzare ed esportare. Noi abbiamo ospitato sette dei loro ragazzi dai 17 ai 40 anni e li abbiamo formati come guide turistiche, quindi li abbiamo insegnato proprio dall'accoglienza fino proprio alla vera guida turistica che spiega proprio il percorso museale. Abbiamo fatto poi delle giornate conclusive in cui loro stessi hanno gestito dalla biglietteria alla guida all'intero museo. E grazie a questa iniziativa è partito un invito particolare dal primo cittadino di Castiglion Fiorentino. Abbiamo rivolto l'invito anche al sindaco perché le sue origini italiane sono sicuro che faranno il giusto richiamo anche verso questo piccolo borgo toscano. E siamo convinti che il cammino che abbiamo intrapreso potrà essere osservato con interesse anche a New York.